Sempre relegata così, a un certo momento loro decisero che forse bisognava far qualcosa anche per rimettere in sesto l'economia, insomma, bla bla bla. Allora Dino Raggia, che era già pensionato, si rimise a giocare, chiamò mio papà e gli ha detto Senti, dai, proviamo a fare una roba, proviamo a battere il Zibona Zagabria e mio papà arrivò giù e si misero a lavorare, chiamarono altri due o tre giocatori e vinsero quel campionato. È stato l'unico campionato che Spalato vinse nella Croazia Democratica, quindi è stato un super successo ed è stata una roba che durò quell'anno. Per vincere il campionato, per far giocare Spalato nella Lega Adriatica e così. La chiusura fu in Slovenia con i bianco-verdi? Sì, l'ultima stagione la quale si provò a fare. Chi era il campione? Nessuno? Nessuno, era una squadra abbastanza, si giocò a livello locale. Come mai Lucas mise così presto di allenare? Ma perché basta, perché bisognava lasciare largo ai giovani, alla nuova palacanestro, alle nuove ideologie, nuovi formati e nuove forme. Cos'altro fece, Luca? Cioè, dal 2004 a quando ci siamo sentiti della prima volta, come ha vissuto? Non ha fatto altro nel basket di SDG, no? Giovanidi, no? No, lui è stato principalmente allenatore, poi ha avuto una breve stagione politica, nella quale ha fatto una serie di, come dire, di riforme in Croazia verso, nella gestione soprattutto della politico-economica dei club, delle, delle, dell'inventarsi forme con le quali i club potevano auto-sostenersi. Ma è stata breve, perché poi il governo che lo aveva scelto, lui era un tecnico, non era una scelta politica, ma era un sottosegretario allo sport, e durò poco, credo due anni, due anni e mezzo, e questa esperienza si interruppe, poi lui era già, insomma, in pensione. E chiudiamo invece con questo, è un pregio o un difetto? Parlo caratterialmente? Beh, pregi tantissimi, cioè è stato un padre gigantesco, eccetera, eccetera. Difetti, come tutti noi ne abbiamo tantissimi, è stata una persona che non sopportava la banalità, non sopportava assolutamente la superficialità e la banalità, ecco, questa è una cosa che, devo dire, lo contraddistingueva. Quanto si sentiva italiano? Quanto si sentiva, se fosse un plastico di Bruno Vespo, almeno la torta, no? Quindi abbiamo, lui nasce nella Jugoslavia, poi è croato, Jugoslavia era insieme prima, poi Croazia e tanta Italia. Un plastico, una torta divisa in tre, quanto era? 50 Jugoslavo, 30 Croato e 20 Italiano? Ma no, era 100% Jugoslavo, solo che non è così che va guardata la cosa. Cioè, la sua, come dire, la sua persona era fatta esclusivamente, unicamente dal suo luogo di provenienza. Poi lui ha amato e ha avuto tantissimi amori. L'Italia è stata un suo enorme amore che gli ha dato tantissimo, e penso che lui abbia dato tanto anche al basket italiano, che lo ha formato, gli ha dato nuove conoscenze, gli ha dato, lo ha fatto crescere come persona tantissimo. Lo ha fatto anche la Grecia, lo ha fatto anche tutte le esperienze. In fondo, tutte le esperienze, quando noi usciamo dal nostro paesiello, cresciamo in qualsiasi, e per questo l'Italia per lui è stata importantissima. Ma lui non è mai stato null'altro che quell'uomo di Spalato, burbero, profondamente, a volte anche molto arrogante, ma in senso positivo del termine, estremamente competitivo. era il migliore quando i giochi si facevano duri. Questa è una cosa che mi piaceva sempre di lui. Cioè, lui non si è mai mai nascosto davanti ad alcun tipo di... non ha avuto mai il bracino corto. Si è messo sempre in gioco, si è messo sempre... ha guardato le persone in faccia, ha fatto sempre delle mosse estremamente, come dire, da uomo. e in questo era molto spalatino. Questa è una caratteristica molto spalatina e molto slava. Poi, se mi chiedi se era 40, 30, no, questo non c'entra niente. Cioè, lui era lui, era se stesso, era da dove arrivava. Poi le altre cose l'hanno formato, ma è rimasto lui. Era religioso, era atero, agnostico, era... Era sostanzialmente ateo. Sostanzialmente ateo. Libro preferito, campione dei sogni. Non avesse fatto tutto quello che abbiamo raccontato nella pallacanestro? Cosa avrebbe fatto? Non lo so. Libro preferito neanche? Viaggio dei sogni, città preferita? Ma... Non era un particolare lettore. Non era un particolare... Come dire... Lui aveva una sola grande passione, che era il mare. L'Adriatico. Il mare è Adriatico. Era un grande... Grande amante di tutto ciò che era legato, dalla pesca alla vela, all'andare in giro per le isole, la conosceva. Era un grande appassionato di... Clima, di temperature, di geografie. Non era una persona che era particolarmente elegante, legata a... Appunto a letteratura, cinema e così via. Aveva delle... Tutte delle sue passioni. E... Luca... Ha fatto... Perché non ha fatto basket lei? Cioè l'ha fatto, non ha sfondato? Come io non ho fatto basket? Io gioco a basket. Beh, vabbè. Io sono nei veterani del sport e abbiamo una tradizione straordinaria a Venezia che andiamo in giro e giochiamo ancora adesso. Io non ho mai fatto sport professionistico perché ho avuto la fortuna di studiare, di avere altre passioni, ma non ho mai smesso di giocare a pallacanestro. Gioco ancora, da 50 anni gioco a pallacanestro e spero di non smettere mai. E chiudiamo davvero su... Io l'avevo accennato fuori. La vita da figlio di personaggio. Tutto facile, tutto in discesa, tutti ti riconoscono, però c'è il confronto. Insomma, immagino che a migliaia le abbiano detto scusa Luca, come mai non hai giocato a basket? Come mai? Va bene, magari non puoi diventare un campione perché non alleni, perché non fai il DS, perché non fai il DG? Se vuoi ti offriamo la presidenza conteso fra Venezia e la Croazia. Ma, non so. Devo dire che non so risponderti a questa domanda per il semplice motivo. Cioè, posso rispondere, ma mi ci vorrebbe un'ora. Cioè, io sostanzialmente ho avuto la fortuna di avere un padre che non è mai venuto a vedermi neanche un minuto quando giocavo a palacanestro. Cioè, uno che non ha dato minima importanza alla mia giovane ambizione di diventare qualcuno del mondo della palacanestro. Ti faccio un altro esempio molto simile. Quando io iniziai a studiare architettura a Venezia e tornai a Spalato all'inizio degli anni 90, la prima domanda che mi fece mio nonno è fare, ma cos'è che studi? E faccio architetto, architettura a Venezia, però, però, bella roba. Senti, diceva mio nonno, ma tu lo sai cosa faceva Michelangelo con l'olio? E io dicevo, ma no, no, certo dipingeva l'olio, no, no, Michelangelo frigeva le sarde con l'olio, no? Era una sorta di battuta molto stupida, molto banale, per cercare di svilire tutte queste ambizioni. Allora, noi viviamo in una società dove siamo tutti quanti costruiti su dei miti, su delle mitologie, e prima riusciamo a demistificare noi stessi, ridere di noi stessi, ridere di tutto ciò che facciamo, prima e meglio facciamo alla nostra psicologia. Ecco, una, non è l'unica, uno dei grandissimi insegnamenti di mio padre è demistificare se stessi, e demistificare tutto quello che c'è attorno a noi. Ecco, grazie a mio padre e a mia madre, perché è stata un'altra figura fondamentale nella mia vita, io ho demistificato tutte le mie ambizioni di diventare Michael Jordan, perché Michael Jordan ha la mia stessa altezza, un metro e novantotto. Michael Jordan, quando io ho iniziato a studiare, a giocare a basket, era alto come me ed era il campione del mondo. Poi è venuto mio nonno che mi ha detto che Michelangelo faceva le sarde frite con l'olio e mio padre che non è mai venuto a vedermi giocare a basket e io sono diventato un grandissimo storico dell'architettura che insegna e nella mia disciplina della storia dell'architettura ho fatto una mostra al MoMA, cioè ho giocato in NBA e quindi grazie a loro mi hanno dato passione nelle cose che faccio io, grandi obiettivi, ambizioni, questa è una vita importante, ma mai fare quello che ha fatto il proprio padre, perché è una delle grandi rovine dell'Italia, fare quello che fanno i propri padri. Ha vinto. Senta, però io da ignorante e volentieri il MoMA mi ha citato, dov'è? Sì, ho a Modern Art a New York, ecco, voi giornalisti. No, 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 io che sono ignorante e mi pregio di... Dove esercita? È ancora in attività la mamma come giornalista, sì? No. Dov'era? Ha 70 e passa anni, scrive ogni tanto delle cose, ma... Ma dove scriveva? Dove era? Soprattutto in giornali croati, di questo... Ma di che cosa? Cultura? Soprattutto di politica. Politica. Buono. Grazie. Caro Vanni, la ora è tarda. Esatto. Grazie.